Quinto appuntamento radiofonico con la voce al Sindaco. Quest'oggi il primo cittadino espiceseno Cenzo Leontini, oltre a darci il dato informativo sulla situazione settimanale del Covid-19 in città, al microfono del nostro opiero giunta ha ragionato sulla fiera, sugli addobbi natalizi e infatti quest'anno è stata adobbata per la prima volta la nostra fascia costiera e sui decreti notificati al comune della Galla Terra Barocca che riguardano la realizzazione di un infopoint con annessa sala museo nei locali dell'ex mattatoio. Comunale e la segnaletica turistica. Ascoltiamo Innocenzo Leontini. Sindaco, iniziamo questo nostro quinto appuntamento con la voce al Sindaco con il consueto aggiornamento settimanale sui dati Covid-19 ad Ispica, sensibilmente diminuiti. Una buona notizia di lei. Grazie Piero, buon inizio settimana a te e a tutti i collaboratori di Radio Dimensione Musica. La diffusione del Covid-19 ad Ispica si è interrotta. Non solo non ci sono nuovi contagi, ma si sono negativizzati molti dei casi precedenti. Oggi ad Ispica i contagiati in isolamento sono sei. Siamo passati da 129 a 6. Erano 129 il 14 novembre, quando abbiamo iniziato l'effettuazione dei tamponi. Lo screening ad Ispica è stato, lo possiamo dire, uno dei più completi. Abbiamo iniziato con la chiusura del comune e con i tamponi a tutti i dipendenti comunali. Poi abbiamo proseguito con tutti gli studenti, superiori, medie, elementari e materne, con i loro docenti e familiari e con il personale amministrativo delle scuole. Infine abbiamo aperto a tutta la popolazione. Anzi, colgo l'occasione per fare un annuncio. Nei giorni 20 dicembre, 22 dicembre, 27 dicembre e 3 gennaio effettueremo tamponi in collaborazione con l'ASP a tutti i cittadini che vorranno sottoporsi. Però nei giorni 20 e 22 dicembre una particolare attenzione riserveremo ai provenienti da sedi extra-regionali, sia studenti di ritorno dalle loro sedi universitarie che lavoratori in ferie che rientrano da altre regioni. Ripeto, 20 e 22 dicembre. I tamponi saranno destinati prima di tutto a studenti e a lavoratori che provengono da altre regioni. Io ringrazio i miei concittadini per la collaborazione. Ispica ha risposto benissimo. Meno casi di Ispica ha solo il comune di Gerratana, che ne ha quattro, ma in quel comune gli abitanti sono solo 2.900. Ad Ispica siamo 16.000, quindi i nostri numeri sono positivamente più clamorosi. In proporzione siamo il comune con il minor numero di contagiati. In assoluto siamo il comune che in provincia ha fatto registrare la più alta e più veloce percentuale di abbattimento del numero dei casi di Covid. Quindi l'impegno dell'amministrazione è stato ripagato dal comportamento virtuoso della popolazione. Bravi i titolari dei bar, dei ristoratori, i negozianti, i commercianti, gli artigiani, gli studi professionali, gli sportivi, tutti, tutti i cittadini ispicesi. Non distraiamoci però nei giorni della festività. Massima attenzione. Lavarsi le mani, tenere la mascherina sempre, dentro e fuori, osservare il distanziamento. Il nostro obiettivo è azzerare i casi e così facendo ci riusciremo. Sullo svolgimento della fiera cosa ha da dirmi? Sullo svolgimento della fiera ho da dire qualcosa. In occasione del 19 dicembre la fiera rimarrà sistemata come sempre. Quindi si farà. La volta scorsa l'abbiamo preclusa perché c'erano le ordinanze nazionali, il decreto nazionale e le ordinanze regionali che la precludevano. Adesso sarà fatta il giorno 19. Ma nelle occasioni successive, a quella del giorno 19, faremo in modo di spostare solo su un lato la collocazione delle bancarelle. Faremo in modo da lasciarci di spalle la campagna, così da lasciare liberi gli ingressi delle case e soprattutto in modo da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Disaggi ne sono stati provocati nel tempo. Alcuni abitanti si sono anche lamentati perché hanno subito le conseguenze del blocco, dei loro ingressi nelle abitazioni a causa delle bancarelle. Faremo in modo da risolvere questo problema. Il Natale si avvicina anche se non verrà festeggiato come gli altri anni. Sindaco, abbiamo notato che gli addobbi nataliffi non sono stati meffi solo in centro città, ma anche nella fascia costiera. Come dire, un'attenzione in più per i cittadini che abitano tutto l'anno a 7 chilometri dal centro di Ispica. Sì, Piero, abbiamo quest'anno riservato un'attenzione particolare ai concittadini che non abitano nel centro storico e nel centro urbano. L'assessore Denaro ha voluto manifestare questa sensibilità nei confronti di coloro che risiedono nella zona balneare, in Viale Kennedy, destinando a loro un'illuminazione dedicata, chiamiamola così, in modo tale che anche i nostri concittadini che non abitano nel centro possano fruire dell'atmosfera di intimità, di poesia e di gioia che inevitabilmente l'occasione natalizia procura alla nostra comunità, alle nostre famiglie e a tutti noi. Quindi credo che meritasse di essere sottolineato questo perché è un dato singolare, non era mai accaduto prima d'ora, che un'attenzione particolare venisse riservata anche ai nostri concittadini che abitano nelle zone, diciamo così, periferiche, balneari o rurali, eccetera. L'ultima domanda che le faccio è sul Galterra Barocca. E di queste ore la notizia che il Galterra Barocca ha notificato al Comune due decreti che riguardano la realizzazione di un infopoint con ammessa sala museo nei locali dell'ex mattatoio comunale e la segnaletica turistica. Sindaco, il settore turistico è la scommessa del futuro. Cosa mi dice? Il Galterra Barocca ha notificato al Comune di Ispica il decreto di impegno che consentirà di richiedere immediatamente l'anticipo del 50% del contributo concesso per la realizzazione a cavadispica di un infopoint con annessa sala museo nei locali dell'ex mattatoio comunale. La spesa complessiva è di 137.000 euro, anzi per essere più precisi, 137.296 nell'ambito del programma di sviluppo rurale della regione Sicilia 2014-2020. Il progetto è stato redatto dall'architetto Mark John Cannata. Inoltre, sempre lo stesso Galterra Barocca, ha pubblicato il decreto per la segnaletica turistica, per il portale della destinazione e per la comunicazione online, che unitamente all'infopoint darà una notevole spinta all'organizzazione del settore turistico ispicese. Entrambi questi progetti sono stati seguiti particolarmente nella fase della decretazione dall'assessore Pippo Barone, considerata la complessità amministrativa della procedura. Credo che siano dei risultati importanti che era doveloso precisare e sottolineare. Sindaco, diamo appuntamento al prossimo lunedì. Ringrazio Innocenzo Leontini, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.